E ciao a tutti ragazzi, bentornati a Carmi Special, è finita anche la partita del Napoli che rimane in testa alla classifica portandosi a casa a tre punti, faticando non poco contro il Sassuolo come è stato anche negli altri anni però, a differenza degli scorsi anni, quest'anno si porta a casa ai tre punti in questo tipo di partite e questa secondo me è la vera differenza tra il Napoli di quest'anno e degli altri anni perché comunque la Rosa è sempre la stessa, ma quest'anno le partite in cui ha faticato come contro la Spal, contro il Genoa e anche adesso oggi contro il Sassuolo, ha portato a casa il punteggio pieno ed è una cosa da non sottovalutare perché gli scudetti, comunque i campionanti, si vincono in questo modo quindi complimenti alla squadra di Sarri che però deve migliorare in alcune cose infatti il Sassuolo ha avuto molte occasioni, non tantissime, ha avuto poche occasioni ma comunque nitide per diciamo far male al Napoli, abbiamo visto sia la traversa nei primi minuti su punizione di Sensi poi dopo il vantaggio comunque pareggiato con Falcinelli, c'è stato anche un altro legno sia colpito da Goulam che anche dal Sassuolo in ogni caso comunque Napoli tra l'altro che ha trovato due gol, i primi due gol, ragazzi un po' fortunosi cioè prima il primo regalato da Sensi, il secondo da calcio d'angolo praticamente forse addirittura il fantacalcio mi spuntava dato a Calleon io ci spero perché in un fantacalcio ce l'ho schierato vedremo poi a chi verrà segnato se sarà autogol di consigli in ogni caso comunque Napoli che trova il gol anche in maniera fortunosa anche se comunque ha avuto sempre il pallino del gioco le altre partite sono state abbastanza interessanti soprattutto Samp-Chievo, partita meravigliosa vedevo un po' la diretta live, praticamente c'era solo Samp-Chievo perché ogni due secondi spuntava un'occasione per l'altra squadra quindi davvero una partita bellissima per il resto la Fiorentina è stata forse la vera sorpresa in casa del Crotone nel senso negativo ecco, e per il resto ragazzi una giornata comunque ricca, abbastanza di gol l'Atalanta mi ha deluso un pochino in casa dell'Udinese perché comunque l'Udinese anche con Baracca ha trovato quelle 2-1 che non erano in difficoltà però diciamo è stato anche lì un match forse equilibrato ecco, ditemi cosa ne pensate lasciate un like se siete d'accordo con questa piccola analisi secondo voi il Napoli riuscirà appunto a continuare a vincere questo tipo di partite anche un po' più faticose per quanto riguarda le altre partite ditemi cosa ne pensate quale vi è piaciuta di più e iscrivetevi se non siete ancora iscritti ci vediamo domani con il video sia sulle vostre rose ho già preparato tutto quindi finalmente stiamo diciamo ripartendo con questa serie e ci vediamo appunto domani ciao ragazzi